E con noi ci ha raggiunto Diego Fusaro, lo conoscete, filosofo, discusso, contestato, ammirato. Allora, comunista sovranista, cerco di circoscriverlo in quest'area ma non è abbastanza. Allora, è giusto o è sbagliato per una password unica fornita dallo Stato? Io ritengo che sia una follia nella misura in cui stiamo assistendo a una società che si delinea sempre più come un totalitarismo del controllo totale. L'epoca del dopo 1989 doveva liberare gli individui invece sta realizzando un totalitarismo che nemmeno nel Novecento si era realizzato. Da un lato abbiamo i microchip sottopelle, dall'altro abbiamo l'eliminazione del contante, il controllo totale delle banche. Adesso abbiamo la proposta surreale di una password statale. Lo Stato liberista è uno Stato che controlla gli individui in maniera totalizzante e che non svolge nemmeno più la funzione che era dello Stato. Non è lo Stato comunista che doveva fare questo? No, lo Stato comunista doveva essere quello che aiutava i cittadini permettendo a tutti uguale libertà, poiché non vi sia riuscito appiene un altro discorso. Lo Stato liberista è molto più totalitario di quello comunista e di quello fascista, questa è la tragica realtà. E tecnologicamente avanzato? Tecnologicamente avanzato, la tecnica diventa, come ci insegna Martin Heidegger, il padrone assoluto. Diventiamo giocattoli nelle mani della tecnica e pensiamo di esserne noi padroni. Questo è il paradosso della situazione del mondo del tecnocapitalismo. Qui sta dibattendo tutta la filosofia, così come Fusaro... ... ...